Due volti nuovi e sei conferme per il Canigati Calcio inizia a prendere forma il team che per il prossimo campionato di eccellenza vestirà la maglia bianco-rossa. Il direttore sportivo Alessandro Avarello ha lavorato sodo per dare un volto nuovo alla squadra, specialmente dopo gli addidi Benedetto Iraci che si è accasato a Ligata di Serie D, Di Angelo D'Angelo trasferito in Calabria alla Reggio Mediterranea e Di Vito Lupo che è andato a giocare in Serie D col Tolentino ed ha cambiato aria anche lui. I nuovi arrivati sono Mario Erbini e Mario Sario Seccan. L'attaccante mazzarese Erbini, classe 1991, seconda punta, vecchia conoscenza del tecnico Nicola Terranova per avere militato nella Folgore Serinunte nella stagione sportiva 2016-2017 e contribuendo alla vittoria del campionato, ha giocato tra le altre squadre anche nel Mazzara, Marsala, Ribera e nelle ultime due stagioni nel Corneliano Roero, realizzando rispettivamente 18 e 21 gol. Mario Sario Seccan è nato in Gambia nel 97 e un attaccante centrale, ha giocato nella Folgore Serinunte, nel Jelen Serie D, nel Mazzara e nel Dattiro, realizzando 18 gol e nell'ultimo campionato di eccellenza. Per quanto riguarda le conferme, il direttore sportivo Alessandro Avarello ha definito l'accordo per il prossimo campionato con il capitano Francesco Maggio che per il quinto anno consecutivo vestirà la maglia bianco-rossa. L'intenso lavoro del direttore sportivo ha permesso di confermare anche per la prossima stagione uno dei protagonisti dell'entusiasmante stagione appena trascorsa, l'attaccante Angelo Caronia. La serietà e l'impegno, oltre alla classe e da categorie superiori, saranno ancora protagonisti nel canicattì della prossima stagione sportiva col confermato Dennis Di Mercurio. Vestirà ancora la maglia bianco-rossa per continuare a far crescere il progetto tecnico della società con la sua personalità, esperienza ed utilità, il terzino centrocampista e all'occorrenza anche esterno-alto Alessandro Cammareri, autore di una grande stagione di eccellenza. Confermato anche Walter Malluzzo, centrocampista di gamba, grande lottatore, che si è conquistato il posto tra i titolari della passata stagione che continuerà a vestire la maglia bianco-rossa. L'ultima conferma è quella di Giuseppe Teresco per il terzo anno consecutivo, l'unico canicattinese nel team, difensore classe 95, un importante punto di riferimento per il tecnico Terranova e continuerà a vestire la maglia bianco-rossa. Definito anche lo staff tecnico, Nicola Terranova sarà l'allenatore, coadrivato da Gianluca Amato, preparatore atletico, Pietro Catalano, preparatore dei portieri, il match analysis Giovanni Milardi, che già l'anno scorso ha collaborato con Terranova e l'ha confermata dottoressa Sandra Greco, specialista in dietologia e dietista, che si occuperà dell'alimentazione dei calciatori. Uno staff di alto livello qualitativo che ha contribuito in modo significativo al raggiungimento degli eccellenti risultati sportivi della scorsa stagione e al miglioramento delle prestazioni dei singoli giocatori. Lo staff è già al lavoro per pianificare la fase della preparazione pre-campionato. Intanto lunedì prossimo, 22 luglio alle 16.30, allo stadio Saraceno di Ravanusa, in vista dell'inizio della preparazione pre-campionato, si terrà uno stage per la selezione di calciatori nati nel 2000 e nel 2001, da aggregare alla rosa della prima squadra. Lo stage sarà diretto dal tecnico Nicola Terranova e dal suo staff. Saranno presenti inoltre i massimi dirigenti del club bianco-rosso. I giovani calciatori dovranno essere in possesso del certificato medico in corso di validità e dell'eventuale nuova host della società di appartenenza.